Gravi carenze di personale, quale ad esempio operatori sociosanitari, infermieri, tecnici e medici mai sostituiti negli anni e la concomitanza delle ferie estive, rendono difficile, se non impossibile, garantire all'utenza idonei standard di qualità delle prestazioni, con aggravamento del rischio di commettere errori, poiché il personale esistente è sottoposto a stress lavorativo dovuto alle continue richieste di mettere toppe ad un abito ormai pieno di buchi. Lo sostiene la Fisi Fialz, che ha chiesto una riduzione delle attività sanitarie in elezione, cioè programmate, negli ospedali dell'Asl Salerno, che si potrebbe posporre a settembre, ed ancora una contestuale limitazione delle stesse attività alle sole urgenze ed emergenze. Dovrebbero, secondo il sindacato, essere garantite tutte le attività di pronto soccorso, di sala operatoria ad esclusione degli interventi in elezione, medicina e chirurgia di urgenza non elettiva, malattie infettive, ossettricia con annesse pediatrie, con esclusione di ginecologia, cardiologia con utic ed anestesia e rianimazione. Il resto delle discipline, anche di base e a larga diffusione, ridotte alla sola emergenza, con posti letto solo per casi, altrimenti non trattabili. Per Orlando Scotillo, responsabile provinciale della sigla sindacale, tutto questo evidenzia un'assoluta mancanza di programmazione nelle assunzioni, pur in presenza di un decreto del commissario ad acta che prevede la possibilità di assunzioni già datato e non applicato e l'assenza di un'organizzazione del lavoro flessibile e che si adegua alle emergenze, sta portando all'estremo il personale dell'ASL, che oramai non è sicuro neanche della possibilità di andare in ferie. Il fatto è che tutto ciò succede a Salerno, mentre a Napoli le cose vanno sempre in maniera diversa. Chissà perché si chiede il sindacalista.